yes iniziamo a scaldarci accendo il fuoco ecco bravo io ho i disturbatori dentro casa questa cosa è per me l'assistente ciao ciao buon lavoro ciao Stefano ciao quando sono bene calde per un attimo ce le mettiamo davanti agli occhi e facciamo delle belle ispirazioni ed ispirazioni terza ispirazione e lasciamo andare le mani sopra le ginocchia attiviamo gli occhi iniziamo a guardarci intorno nella stanza dove siamo e facciamo condurre dallo sguardo le posizioni della nostra testa gli occhi guidano la nostra testa in modo dolce immagino l'ultima vertebra qui in alto l'atlante quella che sorregge la nostra testa ha una bella pallina da pom pom liscia liscia e la mia testa ci scivola sopra e lascio che tutto il busto tutta la colonna vertebrale segua questo movimento degli occhi che si fa sempre più ampio va a cercare dettagli sempre più lontani anche dietro sotto gli occhi guidano una ricerca di dettagli senza soffermarmi scorro osservo un punto e vado oltre ne cerco un altro che attiri la mia attenzione e tutto il corpo segue questo movimento guidato dagli occhi rimango in contatto sempre con il mio respiro cerco di coinvolgere oltre la mia testa il mio bacino la mia colonna vertebrale inizio a coinvolgere anche l'articolazione delle spalle e delle anche poi la estendo anche ai gomiti sono sempre gli occhi che guidano e tutto il resto del corpo reagisce a questa incerta polsi mani dita delle mani ginocchia caviglie dita dei piedi non mi fermo in nessun punto un movimento tutto legato fluido che coinvolge adesso tutto il corpo guidato dal mio sguardo sento la connessione tra la mia testa e la mia coda vi ricordo che c'è un alto e un basso un avanti e un dietro delle diagonali cerco di sentire tutto 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 il corpo cerco di ascoltare cosa fa piacere al corpo in questo momento che ci stiamo svegliando quanto ho bisogno di allungare anche l'articolazione della bocca può essere coinvolta posso andare in uno svaniglio e pian pianino cerco la massima ampiezza dei movimenti posso assecondare con la voce i movimenti che sto facendo emettendo dei suoni magari il più spontanei possibili e pian pianino raccolgo inizio a ridurre inizio a guardare più vicino a me permetto ai miei ischi di basculare sulla sedia per assecondare questo sguardo sento bene l'appoggio dei miei piedi a terra sento i miei ischi ben appoggiati sulla sedia possibilmente bene in avanti in modo che posso appoggiare anche il peso sopra i piedi e basculo da una parte all'altra destra e sinistra riduco sempre di più il movimento come un pendolo che perde la sua forza sempre più piccolo finché lo sento solo internamente la mia testa spinge verso il soffitto come se volessi sollevarlo cerco di sentire bella dritta la mia colonna vertebrale allungata ascolto l'appoggio dei miei piedi a terra le dita posso muoverle un pochettino come appoggiata la pianta dei piedi il mio arco plantare invece che è sollevato sento i miei ischi faccio sorridere le mie clavicole vanno in su sorridono spalle ben aperte l'aria entra dal naso e andiamo in un'estirazione forzata cioè buttiamo fuori tutta 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 l'aria il nostro ombelico andrà verso la colonna vertebrale tengo per qualche secondo e inspiro lasciando andare bene in basso il mio diaframma vado in una respirazione addominale dentro l'aria dal naso trattengo un attimo tutta l'aria dentro i miei polmoni e espiro trattengo 3 4 5 rimado inspiro 1 2 3 4 5 espiro trattieni trattieni 1 2 3 4 5 l'ultima volta ascolto la mia parete addominale ascolto cosa succede alla mia colonna vertebrale di nuovo inspiro dal naso trattengo 2 3 4 5 5 espira 3 4 5 rilassa lasciamo andare il respiro naturale ascoltiamo cos'è successo se è successo qualcosa ascoltiamo il nostro battito cardiaco la frequenza del nostro respiro e seguendo il nostro ritmo naturale andiamo in una inspirazione alzando le braccia verso l'alto e espiro verso il basso ognuno può seguire il proprio ritmo inspiro all'arco la cassa toracica il più possibile espiro svuoto e permetto alla colonna vertebrale di curvare in avanti inspiro cerco di andare verso un arco dorsale e espiro non dimentico la connessione dello sguardo in questo movimento inspiro i miei occhi salgono verso l'alto spiro vanno a guardare il soffitto le mie spalle sono rilassate verso il basso non metto tensione ma apro lo sterno e espiro i miei occhi vanno verso il basso e guardo cosa c'è tra i miei piedi e anche un po' più dietro e di nuovo un bel arco e espira Andrea può vedere la registrazione? sei venuta? ci sta la registrazione sta andando? si ok continuiamo io la registrazione non l'ho preparata la sto improvvisando si si ma va benissimo nel frattempo abbiamo con noi Salvatore e Maria Pia e poi Luca, Gianfranco e Maria siamo così ti dico chi siamo ok volete che continui un po' facciamo ancora un pochino se siete d'accordo ok poi ci diamo un appuntamento e preparo proprio una lezione perché adesso ti ho detto era prova tecnica non è che l'ho preparata comunque ti si sente bene ti si vede bene ok riuscite a seguire bene sì io vedo solo Andrea e Maria è perché tu io ti seguo vedo anche gli altri per vedere che si vada tutto bene ok sono bravi? poi tu mi dici te li controllo ok dai ok lasciamo andare le braccia e i muscoli le lanciamo un po' in giro qua 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 lancio lascio andare tutto come se volessi staccare i muscoli dalle ossa farli fremmare tutti come i budini molli ok andiamo a lavorare sulle mani le mani uniamo indice pollice gira i polsi gira i polsi gira i polsi come una danzatrice indiana collega collega questo movimento anche ai polsi e ai gomiti uniamo medio pollice e continuiamo polsi gomiti gomiti mi diverto a disegnare intorno a me anulare anulare pollice mignolo e pollice e continuo cambiando velocemente le dita indice medio anulare mignolo anulare indice medio anulare medio mignolo indice medio anulare mignolo indice medio anulare mignolo indice mignolo anulare medio indice più difficile a dirsi che a falsi e lascia rilassa a sempre con le mani dal pugno massima estensione del palmo una lampadina che si accende moto broadway rivolgo il palmo di fronte a me come se volessi mostrarlo a mostratelo a me fatemi vedere bene il palmo della vostra mano altro braccio altro braccio yeah dita bella aperte qua e via e destra o sinistra e avanti avanti in basso in basso e un braccio in alto in alto avanti avanti in basso in basso e yam pam 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 e yam pam avanti avanti in basso in basso e su su avanti avanti In basso, in basso e su, su, avanti, avanti, in basso, in basso, più veloce. Penso sempre alle mani che si aprono il più possibile. Più veloce. E lascia, ci abbracciamo. Eh però, sento il tricipite che ha lavorato. E mi abbraccio e spingo le spalle verso il basso. Sentite che meraviglia per il trapezio, questo muscolone grande che sta qua. Le basi del collo come si allunga. Cambio, incrocio. Quindi se avevo la destra sopra, adesso metto la sinistra o viceversa. E stai. Inspira, lasciamo andare il mento verso lo sterno. Scivolo le mani verso il basso. E vado a rilassare. Ci rilassiamo un attimo, lasciamo andare la testa. Verso il basso, lasciate andare il peso, no? Sentite la testa trattenuta. Immaginate di avere i capelli messi dentro un secchio d'acqua. E muoviamo i nostri capelli. O ricordiamoci quando li avevamo. La sensazione che si ha nel muovere i capelli nell'acqua. E piano piano srotoliamo la schiena in su, partendo dal coccige. Immaginiamo di mettere una vertebra dopo l'altra in asse, una sopra l'altra. Fino ad arrivare dritti. E risento la mia posizione. Ok. E sollevo le punte dei miei piedi. Se volete mandateli un po' più avanti che è più facile. Sollevo le punte dei piedi e li batto verso terra. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto. Sollevo le mezze punte. Cercate di tenere il piede bene in asse. Quindi non sollevo sui mignoli, ma bene sull'alluce. E spingo i talloni verso il basso. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Su, quattro e uno punte. Due, tre, quattro talloni. Uno, due, tre, quattro. Due punte, due. Due talloni, due punte. Due talloni. E uno, 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 stop. Com'è andata? Andata? Andata, andata. Andata, benissimo. Ok. Io mi devo abbandonare. Mi devo abbandonare. Grazie. La loro mi chiamo. Buon lavoro. Grazie. Per fare una lezione. Fateci sapere l'orario migliore per voi. Ok. Grazie mille. Ciao. Buona giornata. Buona giornata. Ciao. Facciamo poi un sondaggio, Carlotta, per sentire qual è l'orario migliore. Magari se uno vuole andare a lavorare, potrebbe essere magari alle sette e mezza, otto. Vediamo, insomma. Senti, noi adesso stiamo in chiusura perché abbiamo cinque minuti, perché questo, ancora, questo account non prevede più di 40 minuti. Adesso facciamo l'upgrade. Quindi abbiamo ancora cinque minuti e poi dobbiamo interrompere per forza, perché si chiude automaticamente. Ok. Ma quindi quanto dura in totale la connessione, Andrea? Adesso 40 minuti, però facciamo l'upgrade e quindi diciamo uno può stare quanto vuole. Ah, ok. Volevo fare l'upgrade. Posso dire una cosa, Andrea? Scusa, Luca, dimmi. Posso dire? Sì, certo. Mi sembra una cosa bellissima questa, veramente fatta bene. Io ci stavo pensando ieri sera quando abbiamo fatto lato Sail for Parkinson, perché qui ci sono due gruppi grossi di Parkinson. Uno è Parkinson ufficiale e l'altro è Sail for Parkinson, quello che ragiona tutti gli altri da Serino, no? Sì. E noi ci siamo inventati una cosa molto simile, che mi piacerebbe estenderla con questo sistema. Noi facciamo la Tisana delle 21, il lunedì sera, e ci incontriamo virtualmente con un sistema analogo a questo, che è Proficonf, però mi sembra che ha qualche problema in più di questo, quindi poi ne parliamo tecnicamente per vedere se questo è migliore. Mi sembra migliore questo tuo. Sì, poi se poi ci sentiamo... Chiaramente in questo periodo di chiusura completa del mondo, perché a noi parkinsoniani già il mondo è chiuso, in questo modo il mondo è proprio precipitato e ci staccolando addosso come una pietra di segregazione, questi strumenti, questi metri e questi incontri, questi di Carlotta è stupendo, penso siano quelli necessari per riuscire a farci fare un minimo di risveglio mattutino, di rimetterci in careggiata per fare le piccole cose di tutti i giorni, piccole o grandi cose, eventualmente fare anche attività di potenziamento. Però forse va schedulata a livelli diversi, nel senso che adesso stavo seduto sulla sede ed ero impreparato, nel senso che sono davanti a una scrivania e sono piena di ostacoli davanti a destra e a sinistra. Però per fare un risveglio come è stato questo, Carlotta dimmi se sbaglio. Per fare un risveglio come questo è adatto, però potrebbe esserci anche una sessione un po' più impegnativa, un po' più di rinforzo, perché noi stiamo a casa tutto il giorno, in realtà anche arti inferiori, addominali, io li abbiamo un po' sollecitati, Carlotta però era più un risveglio muscolare proprio di energizzazione, mi sembrava, no? Sì, sì, sì. E quindi quello che suggerivo è forse provare. L'ho preparato, lo stavo improvvisando, perché non era l'idea di fare la lezione stamattina, stamattina era una prova tecnica, quindi in realtà non avevo neanche preparato nulla. Infatti con Andrea ho detto, poi prendiamo la lezione, preparo la lezione, gli do una struttura un po' precisa. A me è piaciuto tantissimo, penso che sia quello che serve a tutti noi per riuscire a portare avanti, a traghettarci oltre quello che sappiamo essere una crisi non di poco conto, perché barricate in casa non ci si sta soltanto bloccati fisicamente, ma si sta bloccati anche mentalmente, come energie. Anzi, mi è piaciuto tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie Luca, e anche l'idea della tisana, della chiacchierata serale mi sembra molto buona. Io metterò a disposizione questa piattaforma di cui oggi prendo l'account, quello aperto, perché questo appunto adesso fra due minuti si chiude. E quindi come hai visto anche Carlotta, funziona molto bene dal punto di vista, ti sentiamo e ti vediamo bene. E quindi diciamo adesso ci mettiamo d'accordo sugli aspetti tecnici, però diciamo mi pare che funzioni come collegamento e quindi senz'altro possiamo fare anche più sessioni, insomma. Magari decidiamo. Sì, abbiamo degli appuntamenti settimanali, insomma, va bene. Poi ci dirai tu come. Ok, va bene, allora ci lasciamo qui. Sì, io tanto sono barricata in casa anch'io, non posso lavorare, la palestra è chiusa, e quindi insomma sono disponibile. Datemi poi gli orari migliori per voi. Io comunque sono una mattiniera, quindi posso farlo anche la mattina presto, perché magari ci avrò, ecco, ma kid è giusto magari che gira un po' per casa. Ok, siamo in chiusura, sta finendo. Perché le sorelle dormono, lei no. Sta finendo adesso il tempo. Ci aggiorniamo allora per rivederci. Un abbraccio. Sì, facciamo un sondaggio. Buona giornata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.